Da domani, 28 luglio, ricorre appunto il sessantesimo anniversario della elezione a Basilica della nostra Chiesa Arcipretale, voluta da Papa Giovanni XXIII, appunto il 28 luglio 1961. Abbiamo preso questa data del 28 per ricordare anche altri anniversari importanti, come il 400 anni del Campanile, 1621, e il 310 della dedicazione di questa Chiesa Basilica, avvenuta il 6 luglio del 1711. Abbinato a questo ricorderemo anche il decimo anniversario della apertura del Museo della Basilica, che da dieci anni appunto è in funzione e ha avuto varie mostre importanti. Adesso l'ultima appunto sulle campane. L'anno scorso, se ricordate, c'è stata la ristrutturazione di tutte le campane, posate appunto, erano qui sul Sagrat nel mese di ottobre, e riproponiamo questa mostra che è abbinata appunto anche a 400 anni del Campanile. Ecco, in quell'occasione delle campane a terra ci fu tantissima gente, e quest'anno c'è un'altra sorpresa. Quest'anno, appunto, per ricordare i 400 anni del Campanile e il 60esimo, abbiamo pensato di illuminare la facciata della Basilica e del Campanile. Potrete ammirarle da domani sera, appunto l'appuntamento di domani alle 21, in Basilica, con un concerto della Scuola Allievi Campanari della Federazione di Bergamo, che ci proporranno dei brani suonati a campane, e poi, terminato questa elevazione, all'esterno della Basilica verrà accesa questa nuova illuminazione che potremo goderla fino alla quasi la fine di agosto. E poi ci sarà un brindisi fuori dal museo, appunto, per ricordare il decimo anniversario del museo. Quindi l'invito è a partecipare domani sera alle 21 qui in Basilica.